salve a tutti e allora andiamo a definire l'ultimo passaggio sulla testatella punto 16 valvole e allora sono stati inseriti già tutti gli enelle e quindi l'unica cosa da fare è andare a sistemare intanto l'adattamento del condotto interno del sottosede valvola quindi lo andiamo a ripristinare come questa lavorazione che ancora era da definire così abbiamo i condotti sistemati quindi l'alluminio che dobbiamo andare a togliere ripristiniamo pure gli angoli delle sede valvole poi andiamo a fare il confronto finale poi a livello di flussaggio dopo aver definito tutte le sede valvole e quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare ora come sistemazione della testata quindi per avere poi il quadro completo della lavorazione nello stesso tempo andiamo pure a sistemare qualcosa qui sulla camera anche dello scarico che ancora dobbiamo andare a definire gli angoli interni della sede va bene allora andiamo procediamo con le altre lavorazioni e allora ecco la testata nella fase quasi finale manca soltanto di andare a spenare la testata e fare qualche saldatura che forse c'era bisogno da qualche parte e allora come andiamo a vedere sono stati fatti gli anelli delle sede valvole e anche le guide sono state cambiate con una profilatura interna che andiamo a vedere sono modificate per l'aspirazione con un approccio di conicità diversa rispetto anche a quelli dell'aspirazione e dello scarico e quindi lo andiamo a vedere poi il discorso delle delle valvole quindi volevo fare notare qualcosa quindi un attrezzo che andiamo a procurarci sono degli spazzolini di diverse misure che non facciamo atto che dopo aver fatto una smerigliatura delle valvole come in questo caso ho fatto andiamo a fare una pulizia dei delle dell'interno delle delle guide proprio per a togliere eventuali grani di smeriglio che si vengono a creare dentro così da poter avere la valvola che entra liberamente senza ostacolo quindi ho montato già le quattro valvole andiamo a flussare un po e andiamo a vedere che come si fa comportare la testata con gli anelli fatti nuove vedremo vediamo cosa va a cambiare sulla portata e allora procediamo con la fase finale e nel frattempo andiamo a controllare pure con la finitura dei condotti visto che abbiamo cambiato le sedi andiamo a vedere un po con la finitura finale se è andata a cambiare qualcosa come come parametri o con aggiustamenti che sono stati fatti quindi andiamo a vedere poi il grafico quindi completiamo un po tutto il quadro delle letture e vediamo poi cosa è cambiato alla fine tutto definito con le prove ma vi vado ad annunciare che ci sono delle grosse novità che cosa sono queste grosse novità allora qualcosina sull'aspirazione perché ancora non avevo completato bene le lavorazioni solo a livello di passaggio ma abbiamo definito poi il tutto con le sete nuove ho dovuto prima di fare la conclusione delle di fare la rettifica delle sete ho dovuto cambiare pure le guide valvole e allora ho dovuto cambiare sia la geometria anche delle guide e poi sulla lavorazione delle sete valvole sia di aspirazione che di scarico ho dovuto fare degli aggiustamenti sull'angolatura e quindi a parità di lavorazione che io non ho più eseguito sullo scarico vediamo che dal grafico cosa va a cambiare soltanto andando a modificare sia l'altezza della sede che anche l'angolatura della sede valvole e diciamo che le valvole sono rimaste quelle i condotti anche quella specialmente sullo scarico e quindi vi dico che vi aspettate qualcosa di modifica di incremento un po' sproporzionato rispetto a quello che è l'andamento della lavorazione che è stato fatto poco e niente per questo vi dico sempre che bastano delle piccole modifiche che vanno a incidere tanto anche sull'andamento del motore quindi a parità poi di lavorazione si possono scegliere delle gambe diverse proprio perché si fanno ad avere dei comportamenti diversi a parità di testata d'accordo quindi andiamo a vedere a livello di grafico proprio che cosa è successo sull'andamento della testata e allora andiamo a valutare che cosa c'è stato allora sulla aspirazione come rivedo ci sono stati degli incrementi di portata proprio perché ho definito i condotti che ancora non erano a livello di parete lavorata finale e quindi quel materiale che abbiamo modificato anche nella lavorazione e con l'aggiustamento anche della sede nuova che abbiamo fatto abbiamo avuto degli incrementi di portata maggiore andiamo a vedere un po' nel grafico vedete nella sovrapposizione abbiamo perso qualcosina nei bassi proprio dovuto alla sezione più ampia a livello di portata e questo è l'incremento che abbiamo avuto sull'aspirazione vedete da questo grafico si innalza e ora andiamo a vedere in GFM anche con il confronto finale poi con il condotto originale quello che volevo fare vedere anche sull'andamento del grafico fu stato nel senso contrario vedete che a parità anche dell'aspirazione qui il grafico di colorazione va a cambiare vedete quell'aggiustamento che ho avuto sul passaggio del condotto come definizione del condotto abbiamo avuto questi miglioramenti di grafico vedete come qui è meno ostruito il passaggio quindi dovuto proprio a una lavorazione più ampia dei condotti e abbiamo avuto quell'incremento anche in portata in GFM quindi anche nella prova al contrario si va ad amplificare quel guadagno proprio perché il flusso è al contrario quindi non abbiamo l'ostacolo della valvola l'altra cosa più importante che volevo fare notare era lo scarico quindi a parità dello scarico anche sull'altra testata andiamo a togliere mettiamo il grafico dello scarico allora prima sul condotto a parità di lavorazione questo è lo scarico che abbiamo per adesso quindi questo era il grafico nel senso contrario invece questo era il grafico nel senso giusto ma qui io non ho lavorato la sezione del condotto quindi ho lasciato invariato lo scarico a livello di sezione di condotto e ho modificato soltanto sia l'altezza della sede valvola ma anche un raggio diverso della sede valvola e andiamo a vedere un po' gli incrementi che sono stati molto diversi come andiamo a modificare ecco la modifica che abbiamo avuto quindi questo è rimasto più o meno invariato se lo andiamo a vedere nella sovrapposizione del grafico vedete il grafico dello scarico nel senso contrario quindi facciamo finta che questo sia il condotto dell'aspirazione vedete che non è cambiato niente perché io il condotto non ho lavorato la sezione ma vedete che il grafico superiore invece come nel senso giusto di lavorazione dello scarico va a migliorare sia nelle basse aperture come andiamo a vedere qui vedete nella sovrapposizione del grafico come si va a cambiare la curvatura proprio del profilo di lettura e anche sulle alzate massime vedete quanto va a guadagnare proprio non tanto con la sezione di passaggio perché questa rimane invariata ma soltanto con l'angolatura delle sete diverse e un abbassamento della sete valvola quindi questo è quello che è l'incremento maggiore è stato di fatti a parità di riempimento sulla testata che andiamo a vedere il grafico dell'aspirazione con quello dello scarico quindi l'aspirazione nel senso giusto e lo scarico nel senso giusto andiamo ad avere uno scarico che va a superare l'ingresso dell'aspirazione quindi potremmo adottare in questa analisi del grafico bene la scelta dell'abberacame quindi lo possiamo sfruttare sia per avere maggiore riempimento nelle basse aperture dell'aspirazione quindi nella fase di incrocio lo andiamo a sfruttare anche per il discorso dell'aspirazione quindi c'è da giocare bene su questo discorso per questo dico io piccole modifiche a volte vanno a cambiare nella geometria della valvola o della sede vedete quando va a incidere poi sul profilo sia dell'aspirazione che anche sullo scarico di fatti poi vediamo nel confronto finale quindi questa è l'aspirazione lavorata con la sede modificata quella finale che poi è cambiato di poco da quella che avevamo la volta scorsa adesso quindi è modificata qualche cosina ma proprio il grafico è andato a cambiare come portata soltanto per un aggiustamento della sezione interna dei condotti però se lo andiamo a confrontare poi sull'aspirazione c'è il confronto tra la testata originale con quella finale vedete questo è l'andamento del grafico che abbiamo avuto quindi ho cambiato un po' lo sfondo dei colori per euguagliare bene o male i colori del grafico e vedete questo è il confronto finale e finale con la sede fatta nuova è un po' la sessione del condotto che ho definito quindi siamo passati da 158 quasi a 14 mm a 192 di portata quindi la media l'abbiamo da 130 passata a 146 vedete questo è tutto l'incremento che abbiamo avuto sulla portata e ora andiamo a vedere sul discorso della testata che vi ho fatto notare e allora eccoci qui con la testata dopo la lavorazione a livello di prova finale del flussaggio della testata vediamo di che cosa è andato a cambiare quel miglioramento che abbiamo avuto come ripeto io sulla testata a livello di scarico non è stato più lavorato come come andatura e come sezione di passaggio ma l'abbiamo visto anche dalla portata che abbiamo avuto nel flussare il condotto dello scarico nel senso contrario quindi come se fosse l'aspirazione quindi il flusso che entra dall'imbocco qui del condotto e va a uscire dalla sede valvola e quindi abbiamo visto che quella sezione di passaggio a livello di condotto era uguale a livello di portata però visto che poi dopo la lavorazione finale che abbiamo dovuto fare nelle sede valvole proprio perché ripeto nell'ultimo passaggio poi sono state inserite le guide nuove come vi ho detto allora quella rettifica che abbiamo avuto sia sulle sede valvole e ripristinato in linea con le guide quindi anche la geometria interna l'adattamento delle lavorazioni anche come passaggio ha inciso su quel miglioramento in GFM che abbiamo avuto e anche sullo scarico anche l'abbassamento della rettifica delle sete delle valvole ha inciso su quel miglioramento che abbiamo avuto anche perché quindi le valvole sono le sete valvole sono rimaste quelle originali quindi a livello di sezione non è cambiato niente su quella differenza di portata che abbiamo migliorato ma è cambiato soltanto la lavorazione dell'angolatura interna quindi gli angoli di lavorazione della sete valvole ha portato ad avere quel miglioramento che abbiamo avuto sia nelle basse aperture ma anche sull'andamento del grafico come portata massima e di fatti poi su quel grafico andiamo a riflettere il discorso della black cam può andare a copiare bene quindi anche l'abbassamento della valvole ha inciso anche in questo caso per avere una migliore pulizia del flusso che va dal cilindro verso fuori sul condotto della tessata e quindi questa è nella fase finale che abbiamo avuto e poi anche sul discorso della dell'aspirazione vedete anche la colorazione delle sete valvole che sono state cambiate sono diverse un po' anche come materiale rispetto all'aspirazione e qui l'ingremento purtroppo che si ripete che in queste d'estate dobbiamo andare ad avere degli incrementi andando ad aumentare anche come abbiamo visto nell'andamento delle varie fasi dell'operazione con un incremento della sezione delle valvole sull'aspirazione per quanto va sullo scarico invece dobbiamo fare quegli aggiustamenti sia di condotto che di rettifica soltanto delle sete perché poi a livello di diametri abbiamo visto che siamo sovradimensionati anche rispetto al guadagno che abbiamo normalmente con l'aspirazione d'accordo ci andiamo a risentire poi con qualche altro video in questa qua mi rimane soltanto di andare a fare ripeto il discorso dell'aspiratura anche per andare a togliere eventualmente quelle piccole deformazioni che ci sono ma anche più che altro per andare a ripristinare qui un po' di saldatura che si andrà a fare sul piano della tessata ma andiamo a togliere proprio quel velo di materiale giusto giusto per andare a fare l'aspiratura anche perché la tessata è in ottima condizione quindi andiamo a fare soltanto questo tipo di lavorazione ok mettete un mi piace nel video e quindi potete condividere e ci aggiorniamo poi al prossimo video